Sabato pomeriggio, dopo aver incontrato in mattinata i gruppi di preghiera di Padre Pio e i dipendenti della Casa Sollievo della Sofferenza, Papa Francesco ha voluto pregare nella Basilica di San Pietro davanti alle spoglie mortali di Padre Pio da Petrelcina e Padre Leopoldo Mandic. Francesco ha preso posto in un banco accanto alle due teche, che si trovano fino all'11 febbraio davanti all'altare della confessione. Poi si è unito ai fedeli che recitavano il rosario. E dopo mezz'ora ha letto con i fedeli il testo di una preghiera scritta dal Cardinale Angelo Comastri, che recita tra l'altro Padre Pio aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore. Prima di lasciare la Basilica ha salutato alcuni fedeli e frati cappuccini della comunità di San Giovanni Rotondo.